I malati di diabete sono in crescita. Solo all'ospedale di Piacenza ogni settimana arrivano 18 nuovi pazienti. Complessivamente quelli seguiti dall'ASL sono 18.000. Un cittadino su tre ne soffre senza saperlo. Anche tra i più giovani la malattia è in aumento. Per la prima volta è stato diagnosticato il diabete di tipo 2, ovvero legato ad obesità e sedentarietà, a tre adolescenti piacentini. I bambini affetti da diabete di tipo 1, ovvero una malattia autoimmune, nel nostro territorio sono 70. Quali sono i campanelli di allarme? Su un paziente sano, per esempio stanchezza, aumento della diuresi, quindi la frequenza delle menzioni quotidiane, sete, possono essere già dei segnali d'allarme perché la glicemia sia già alta. Sono due sintomi molto semplici ma che se riconosciuti precocemente ci possono portare a fare una diagnosi precoce. Se ci arriva proprio nell'inizio dei sintomi il bambino avrà solo questo tipo di disturbi che abbiamo detto. Se ci arriva la fine dei sintomi si può avere anche una serie di disturbi associati a una grave disidratazione. Come ogni anno a novembre si celebra la giornata mondiale del diabete. Per il 2019 la sensibilizzazione si focalizza sul tema proteggi la tua famiglia. A Piacenza l'appuntamento è sabato 16 novembre dalle 14.30 alle 17.30 sul pubblico passeggio con i controlli gratuiti. Noi come associazione saremo presenti per consegnare materiale informativo sull'associazione, sulla prevenzione per il diabete.